Sono tre gli imprenditori arrestati dai carabinieri forestali di Bari e quattro aziende sequestrate a palo del Colle, Ruvo di Puglia e Andrea, oltre a diverse decine di mezzi pesanti e beni per un totale di oltre 1.700.000 euro, nell'ambito dell'operazione Cannibal Cars inerente ad un traffico internazionale di rifiuti pericolosi verso Africa e Asia. Oltre ai tre arrestati, di cui uno è egiziano e gli altri due di Ruvo e Andrea, sette persone sono state denunciate a piede libero per tutti. L'accusa principale è di traffico internazionale organizzato di rifiuti pericolosi tra Italia, Egitto, Iran e Libia. Gli arrestati, insieme alle persone denunciate, avevano costituito un gruppo criminoso che esportava all'estero veicoli fuori uso interi, tra cui semirimorchi, autocarri cassonati e furgonati, anche adibiti ad usi speciali, non più idonei alla circolazione su strada in quanto non marcianti ed inutilizzabili e costituenti rifiuti speciali pericolosi. Oltre a questi, anche parti di veicoli fuori uso e parti di veicoli fuori uso attinenti alla sicurezza, non sottoposti alle prescritte operazioni di revisione, quindi costituenti un rifiuto. In pratica, i soggetti indagati utilizzavano i rispettivi complessi aziendali, quindi beni, mezzi e persone, per cannibalizzare i veicoli fuori uso, mediante il taglio a pezzi degli stessi, dichiarandoli falsamente come parti di ricambio, ma essendo in realtà ancora rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, poiché commercializzati senza essere stati sottoposti alle operazioni di bonifica e messe in sicurezza presso un centro di demolizione autorizzato. Numerose le fatture sequestrate corredate da dichiarazione nelle quali si attestava falsamente l'avvenuta bonifica ad opera di ditte specializzate, sequestrate inoltre false documentazioni utilizzate per presentare come parti di ricambio i rifiuti esportati. Per tali principali ragioni agli indagati sono stati contestati numerosi reati di falso. L'azienda a capofila del gruppo inoltre esercitava abusivamente anche l'attività di centro di raccolta e demolizione, trattandosi di una concessionaria di veicoli pesanti usati e avvalendosi della complicità documentale fornitali dalle altre aziende indagate, quali centri di raccolta autorizzati. In pratica la trasformazione in pezzi di ricambio veniva fatta risultare falsamente come se fosse avvenuta in un centro di raccolta autorizzato, mentre in realtà si svolgeva mediante una cannibalizzazione presso un'azienda non autorizzata. Nella conduzione dell'attività illecita il gruppo organizzato si avvaleva anche di consulenti ambientali anch'essi indagati. Ammonta circa 3 milioni e mezzo di chilogrammi la quantità di rifiuti gestita illegalmente, in particolare verso i paesi asiatici e africani. L'organizzazione agiva mediante operazioni costituite da numerose spedizioni trasfrontaliere attraverso i porti di Bari, Genova e Salerno, diretti principalmente verso Iran, Libia ed Egitto. Inoltre ammonta oltre 1 milione e 700 mila euro il valore accertato dei profitti illeciti derivanti dal risparmio di spesa per la mancata attivazione della corretta procedura di gestione e recupero dei rifiuti prescritti dalla legge e dai ricavi delle vendite illecita dei rifiuti stessi. In gente anche il danno ambientale derivato dalla circolazione dei rifiuti sporchi e non bonificati con presenza di gravi inquinanti.